Partiti i cavalli del Carlo Vittadini 2018 Staccato, è sempre piuttosto staccato rispetto al resto del gruppo Fortissimo, va via dritto per dritto, rileva il comando in maniera molto decisa Per lo zero neufemismo, aspettatemi La sopravvanza prepotente senza prendere prigionieri a fronte a retta Con un margine che diventa ampio nei confronti di Poeta di Letto Che nel frattempo avanza su aspettatemi Estreme Le Vintage che muove a largo su Time to Choose, Wait Forever, Just Is Well e Nice Name Corsa tatticamente completamente rotta da questo tentativo di fuga Traguardo lontano di Fortissimo, Poeta di Letto è quello che per primo muove per ricucire il gap Avendo vicino Wait Forever con il cap rosso Estreme Le Vintage che si prepara a largo Poi Justice Well, Time to Choose, più dietro Nice Name, fortissimo Che è ancora in vantaggio quando mancano 350 metri Arrivano i cattivi, arriva Poeta di Letto, arriva Wait Forever a largo Estreme Le Vintage Poi Time to Choose, per via interna c'è ancora in quota, aspettatemi Poi Nice Name all'ultimo farlong, Poeta di Letto che va all'attacco e passa Wait Forever che ci prova per via interna, aspettatemi, ancora in quota, fortissimo Ultimo tratto di corsa per Wait Forever che va su Poeta di Letto e due lotta Davanti a fortissimo, aspettatemi, Nice Name Grazie a tutti Grazie a tutti